Buongiorno amici lontani e vicini, siamo nella gelida piazzetta di Santa Croce di Piano Conte con il parroco Lio Raffaele. Alle nostre spalle la chiesa e soprattutto il campanile che è stato restaurato grazie alla generosità, dovremmo dire, anche degli oliani sparsi nel mondo. È così Don Lio? Sì, è proprio così e proprio all'inizio di questa intervista vorrei, mi preme, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a quest'opera. In primis, come dicevi tu, poc'anzi, gli emigrati nel mondo, ma in modo particolare Gennaro Piccone e Pino Quadara che si sono fatti promotori dopo aver letto la notizia sul notiziario. Quindi possiamo dire l'America perché Gennaro Piccone è a Manhattan e New York, mentre invece Pino Quadara è a Melbourne, in Australia. Sì, è attraverso di loro che si sono resi disponibili per una buona raccolta, poi in modo particolare per il popolo, per gli abitanti di Piano Conte e poi tutti coloro che in modo diverso hanno partecipato. E mi preme anche sottolineare gli artigiani, i falegnami che hanno regalato tutti una finestra per poter impermeabilizzare il campanile. Queste, dico tutte queste persone, ma anche tante altre che in modo diverso si sono resi disponibili per questa bella opera che abbiamo realizzato. Ecco, diciamo che il restauro del campanile non è solo l'unica bella notizia che riguarda la Chiesa, perché vi sono stati anche altri lavori. Sicuramente, alle mie spalle potete vedere il sagrato e poi abbiamo quasi in dirittura d'arrivo un'opera di carattere sociale importantissima che è il campetto per i bambini, per i giovani di questa comunità che sicuramente contribuirà a questa capacità, a questo spirito di aggregazione che è importante penso in una comunità parrocchiale. Ecco, tutti questi interventi sono stati fatti e si faranno grazie alla generosità degli isolani, giusto? Sì, sicuramente generosità degli isolani, qualche amico sparso in giro per l'Italia e poi la provvidenza che non ci abbandona mai. Diciamo che con il suo avvento qui a Piano Conte senza nulla togliere a Don Bruno Maiorana c'è un nuovo fervore nella comunità, anche perché sta portando avanti delle iniziative, non solo per esempio la squadra di calcio dei ragazzi, ma anche le iniziative natalizie dell'anno nuovo che ci saranno anche nei prossimi giorni. Sì, sicuramente sì, ma io penso che l'elemento fondamentale in tutta questa situazione è la comunità, che è una comunità abbastanza dinamica, è una comunità che si dà da fare, che non sta con le mani in mano, poi anche questa collaborazione con la Terme San Calogero, con il gruppo anziani di Piano Conte, tutti diciamo che convergono, anzi convergiamo tutti insieme per far sì che cresca la comunità, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista spirituale, perché penso che in momenti di crisi come questo è bene mettere insieme le nostre capacità e farle fruttificare. Ecco, Odolio, per concludere il suo augurio per il 2015, soprattutto gli auspici e una parola di speranze, soprattutto per coloro che hanno maggiormente bisogno. Sicuramente riprendendo anche il messaggio del Santo Padre dobbiamo augurarci la cosa più importante, che è la pace, la pace che dobbiamo costruire tutti insieme. Le nostre isole, come la nostra cara Italia, penso si sono sempre distinte per questa capacità di rialzarsi. È un momento di crisi profondo, però io penso che noi con le nostre capacità, anche con la nostra genuinità, perché le isole si sono sempre distinte per questo, mi sembra doveroso dire a tutti, come ci è stato detto anche dal Presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno, il Santo Padre lo ripete continuamente, questo è forza, coraggio, riprendiamo il cammino, rimbocchiamoci le maniche, mettiamo insieme le cose che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Ecco, a proposito di Papa Francesco, non possiamo non dire due paroline sulla nomina a cardinale dell'ex vescova ausiliare di Lipari, Franco Montenegro. Vescova ausiliare di Messina Lipari, Santa Lucia del Mela. Sicuramente è un grande riconoscimento per l'Arcidiocesi di Messina Lipari, Santa Lucia del Mela, ma è un grosso riconoscimento per Monsignor Francesco Montenegro che si è sempre distinto per la sua generosità, per la sua umiltà, per le sue grandi capacità e penso... Per l'aiuto anche più bisognosi. Sì, è Presidente nazionale della Caritas, ma l'idea di questo penso che una figura come lui può dare tanto agli incarichi che ricopre, ma nello stesso tempo sicuramente è un grande punto di riferimento per la Chiesa tutta e penso che la Chiesa di oggi per essere un punto di riferimento ha bisogno di uomini come questo. Quindi auguri a lui e buon ministero cardinalizio al caro Francesco Montenegro. Bene, abbiamo completato. Ringraziamo Dollio Raffaele, parroco della Chiesa di Santa Croce qui a Piano Conte. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci. Grazie.